Manca poco ormai al turno di domani che vedrà gli uomini di Rossellini in sfida per la Coppa Italia contro Juve Stabia. Un match all'insegna delle novità con l'arrivo in rosso-blu della New Entry Giuseppe Estatella, centrocampista centrale in forza al Cosenza con un contratto biennale. Per me è molto importante per la partita di domenica, noi dobbiamo andare lì come abbiamo fatto con la Serenitana qua, volevamo soltanto fare bella figura, fare una partita all'altezza, poi abbiamo anche vinto, meglio così. Vorremmo fare la stessa cosa, ma al di là del risultato, perché insomma andare nelle prime quattro fa piacere a tutti, però dobbiamo cercare di fare le due cose, anche se la Juve Stabia, visto che domenica tra squalifiche chiamano fuori tre o quattro giocatori titolari, dunque è normale, loro hanno una rosa anche per arrivare in fondo in Coppa, sono avvantaggiati, noi cercheremo di non far giocare chi è a rischio, ce ne sono tre o quattro, far giocare chi ha giocato meno, ma contemporaneamente mi sto cervellando un pochino per trovare una soluzione che ci possa permettere di fare una buona figura. È normale che, sinceramente, Estatella che ha giocato titolare anche venerdì a Catania con Lua Provercelli, insomma, credo che sia un giocatore che ci possa dare una mano. È un giocatore di gamba, è un giocatore di forza, è un giocatore che ha dei gran strappi, è un giocatore che tatticamente, io ho allenato 18 mesi, ho cercato un po' di fargli migliorare alcune fasi, diciamo nella fase che la pallano gli altri, che spesso ha questa abitudine a rientrare un po' largo, e allora mi auguro di riuscirgli subito a riportarlo un po' meglio da questo lato, perché poi lì a Vercelli adesso giocavano con 4-3 e dunque lui giocava esterno, anche a Catania, molto sulla riga.